Vengo sul balcone, c'è stata una luce immensa, un tuono fortissimo. Il tempo di andare sul balcone e alzare gli occhi proprio verso il cielo è venuto giù tutto. Le macchine cadevano come foglie, i tiri avevano proprio come foglie, come foglie. No, finne le glorie, perché abbiamo cominciato a urlare, aiuto, aiuto dal balcone. Pioveva fortissimo e sul balcone ci siamo ritratte verso l'interno, poi fortunatamente pioveva molto forte, quindi la polvere si è abbassata subito e siamo riusciti a vedere dalla ferrovia, perché noi siamo proprio a ridosso, cosa c'era. I camion, le macchine, mia figlia a scorciagola a urlare, stanno arrivando, li hai chiamato tutti, stanno arrivando. Perché c'erano questi carri a penzoloni strappati dal ponte che con la pioggia cominciavano a fare scintille, diciamo. Sembrava un film dell'orrore, un film dell'orrore. C'è una scena così, non credo, mia figlia è ancora dello psicologo, io subito dopo, poi mio marito. Eravamo tutte e tre in casa, lei di 16, io e il piccolo di 5 anni.